È stata un'esperienza unica, unica che ci ha permesso di diventare un gruppo molto più coeso, non solo tra noi infettivologi, ma tra tutti gli altri medici delle varie specialità che hanno preso parte alla gestione di questa emergenza pandemica. Ed è stata una forza, quindi, che ci ha permesso di riuscire a uscirne dalla prima ondata e a poter affrontare al meglio la seconda ondata. Mi ha lasciato all'inizio un senso di impotenza. All'inizio veramente è stato difficile e il fatto di essere in gruppo ci permetteva di riuscire a trovare delle soluzioni in tempi più rapidi. Mi sento di dire che è una responsabilità di ognuno vaccinarsi, che fa parte del senso civico di ogni cittadino, perché è l'unico modo che possiamo avere per uscirne da questa pandemia. E quindi io sono orgogliosa di essere una delle prime vaccinate, un esempio, devo essere un esempio per i cittadini. All'inizio è un esempio per i cittadini.